Giuseppe Milanese è stato confermato alla presidenza di Federazione Sanità Conf Cooperative nel corso dell'Assemblea Nazionale a Roma. L'incontro è stato un'occasione per ragionare sul sistema sanitario nazionale e sul crescente ruolo delle cooperative. 12,2 milioni di italiani rinunciano a curarsi per difficoltà economiche, oltre 7 milioni si sono indebitati per farlo, 2,8 milioni hanno venduto casa per sostenere le spese per la salute, ha detto Milanese citando dati Censis, numeri che tracciano la mappa delle disugaglianze in un paese dove si cura solo chi può pagare. Da qui l'impegno per il prossimo mandato. I bisogni dei cittadini sono oggi nevassi e allora medici, farmacisti, operatori sociosanitari, mutui, tutti quelli che sono intervenuti, è stata un'assemblea molto partecipata, hanno chiarito che il problema non ha possibilità di essere differito nel tempo. Oltre ai migranti, oltre al lavoro c'è il problema della fragilità, cronicità e disabilità in Italia e questo va risolto e i prossimi quattro anni li spenderemo per questo. Dello stesso avviso il presidente nazionale Conf Cooperative, Maurizio Gardini, secondo il quale il sistema sanitario va riformato perché dopo 40 anni le esigenze del paese sono cambiate. Noi pensiamo che ci possa essere un intervento sussidiario di integrazione fra lo Stato e fra il privato sociale, fra quelle forme di organizzazione dei cittadini che mette insieme anche i protagonisti, dai medici ai farmacisti, agli operatori del settore, che renda in qualche misura il protagonista una risposta nuova, una risposta solidale, una risposta per tutti, perché noi non saremo mai dalla parte di coloro che vuole costruire risposte differenziate fra chi ha risorse economiche e non le ha. All'Assemblea hanno partecipato anche alcuni rappresentanti del mondo politico, come il neopresidente della Commissione Sanità del Senato, Pierpaolo Sileri. Le cooperative non solo danno lavoro ma possono dare professionalità, integrazione e ripeto rappresentare una rete sul territorio che può risultare indispensabile. Oggi le cooperative già forniscono servizi importanti come l'assistenza domiciliare, ha detto invece il direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, Andrea Urbani. Insieme al mondo delle cooperative stiamo individuando un percorso per accreditare l'assistenza domiciliare. Grazie a tutti.